Oggi siamo ospiti del Poliambulatorio Medico Specialistico Community Health Care a Mola di Bari con Diana Foppa e Rosaria Santoro, ostetriche e libere professioniste che operano in Puglia. Sai che anche in Puglia si nasce in casa? Ora passo la parola alle interessate per la loro presentazione. Ciao, buongiorno a tutti, sono Rosaria Santoro, un'ostetrica libera professionista, ma prima di essere una libera professionista sono stata un'ostetrica dipendente dell'ASL di Taranto, Gruttaglie, Massafra, Consultorio, eccetera, eccetera. Sono stata in servizio come dipendente pubblica fino al 2008. Dal 2010 esercito la libera professione perché è emerso il bisogno delle donne di partorire a casa, quindi da allora io mi occupo di parto in casa. Il parto in casa in Puglia è ancora poco diffuso perché le istituzioni sono poco attente a questi bisogni delle donne, non riconoscono il diritto di scelta della donna e noi ci stiamo impegnando anche in questo. Quindi noi ci auguriamo che più donne diventino consapevoli, capaci di scegliere dove voler partorire, senza per questo dover necessariamente scegliere l'ospedale o la casa, ma che diventino soprattutto consapevoli che non devono delegare il loro parto. Noi ci stiamo occupando soprattutto di questo, insieme con Diana da qualche anno. Ciao a tutti, anch'io come Rosaria sono libera professionista in Puglia. da qualche anno. Prima stavo in Alto Adige, lavoravo in Alto Adige molti anni nelle strutture. Siamo entrambe iscritte all'Associazione Nazionale Nascere in Casa e Casa Maternità. Sì, come diceva Rosaria, noi ci impegniamo per accompagnare le donne in gravidanza durante il parto e nel dopo, vedendo che c'è la richiesta da parte delle donne di voler essere proprio protagoniste della loro gravidanza, del loro parto e anche nel dopo. Ok, allora partiamo dal principio. Rosaria, ci puoi spiegare come si nasce negli ospedali in Puglia? Beh, spiegare come si nasce nelle strutture pugliesi è un po' complicato. Certo, a me arrivano molte testimonianze delle donne, di cui potrei fare una sintesi, ma credo che la cosa migliore sia quella di andare a verificare quei dati di un'indagine che è stata svolta qualche anno fa dall'Ordine delle Ostetriche di Bari, l'Ordine delle Ostetriche di Taranto e la ASL di Lecce. Questi dati si possono consultare sul sito dell'Ordine di Bari, so che li hanno pubblicati. E che cosa ha fatto emergere questa indagine? Intanto è stata un'indagine basata su delle domande rivolte alle donne, appena partorito, dopo tre mesi e dopo sei mesi. E si è andata a verificare, per esempio, se le linee guida nazionali e internazionali nelle strutture vengono applicate ed è emerso, sono stati messi a confronto queste linee guida con le risposte delle donne. Che cosa è emerso? Io non vorrei esporre io la situazione perché, ripeto, è sufficiente andare sul sito dell'Ordine di Bari e guardare. E praticamente che cosa dicono le linee guida, per esempio, sull'episiotomia, che è quel taglietto che viene fatto alla donna per facilitare il parto, che dovrebbe essere limitato a casi estremi. E invece c'è un'alta percentuale che, per esempio, non deve essere fatta la cosiddetta Christeller, quella spinta sulla pancia, no? Per aiutare l'aiutino che si fa meccanicamente. Non dovrebbe essere fatta perché è controindicata ed è pericolosa. Non dovrebbe essere, per esempio, allontanato il bambino appena nato. Il bambino appena nato dovrebbe restare addosso alla madre affinché si possa attaccare al seno e quindi promuovere l'allattamento al seno. Non dovrebbe essere tagliato il cordone precocemente, perché tagliando precocemente noi togliamo un terzo del suo sangue. Quindi bisognerebbe aspettare almeno che il cordone umbilicale smetta di pulsare. Noi, per esempio, lo facciamo sempre dopo due o tre ore, non c'è nessuna fretta, se le condizioni lo permettono, ovviamente. Un'altra cosa è che la donna deve essere libera di muoversi e si è visto da quest'indagine che non sempre la donna, per esempio, partorisce nella posizione in cui lo desidera, ma spesso partorisce nella posizione che è più comoda all'operatore. E quindi questo è emerso. Non devo dire io come si partorisce, bensì lo dicono questi dati. Diana, invece, com'è cambiata adesso l'assistenza del parto in Puglia durante il Covid? Questa pandemia, questo periodo è sicuramente particolarmente difficile. Ha messo a dura prova tutti gli operatori nell'ambito sanitario ed è anche per questo che sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che l'Istituto Superiore Sanità ha emesso delle linee guida. Ce ne sono in particolare per la gravidanza, per il parto e per il dopo parto che danno delle indicazioni ben precise, per esempio, che la donna deve essere sempre accompagnata, poter avere accanto una persona di fiducia, di scelta, durante tutto il travaglio e anche nel dopo, che il bambino non deve essere separato dalla madre, che la donna deve essere supportata nell'allattamento. Questo anche se la donna fosse positiva. Quello che noi invece che assistiamo a domicilio vediamo è che stanno aumentando le richieste del parto a domicilio proprio perché le donne vogliono avere accanto la persona di fiducia e vogliono stare con i loro bimbi dopo il parto, non vogliono una separazione, come appunto sanno anche loro che è raccomandato da tutte le linee guida internazionali e nazionali ormai. Quindi sì, è cambiata l'assistenza e appunto le donne adesso non hanno più la persona di fiducia accanto, cosa che prima veniva garantita e i neonati vengono separati per tante ore. Non si sa neanche bene cosa, quale struttura fa e garantisce. Quello che anche Rinascere il Naturale ha richiesto è trasparenza, cioè che almeno si sia reso pubblico quali possibilità le donne hanno o non hanno nelle varie strutture, in maniera che possano appunto scegliere libere dove rivolgersi. Rosaria, ci puoi parlare del parto in casa? Dunque, il parto in casa. Il parto in casa praticamente noi come iscritte, come diceva Diana, iscritte all'Associazione Nazionale Nascere a Casa in Casa Maternità, assistiamo a domicilio con dei criteri ben precisi. Intanto sul sito della nostra associazione si possono andare a confrontare i suggerimenti che vengono dati alle coppie per scegliere il parto in casa. Su quel sito troviamo anche le linee guida che vengono regolarmente aggiornate ogni quattro anni. L'ostetrica che assiste a domicilio, per esempio, fa una formazione sulle emergenze. Quindi in termini di sicurezza, io personalmente dico quando lavoravo in ospedale queste competenze non le avevo. Da quando assisto parti a domicilio sono formata per affrontare anche l'emergenza nel parto perché per quanto noi ci atteniamo alla fisiologia, per quanto le donne che partoriscono a casa sono donne sane, con un feto unico, con un bambino unico, con la presentazione di testa e c'è tutto regolare, però le emergenze possono anche presentarsi in nostro malgrado. Quindi noi siamo formate per affrontare queste emergenze. L'emergenza è per le quali ci formiamo, ripeto, ogni due anni ed è una formazione molto particolare perché siamo tutte formate allo stesso modo. Quindi dal punto di vista della sicurezza noi interveniamo in questo modo. Dal punto di vista dei criteri, la donna deve essere sana, non deve avere problemi, eccetera, eccetera. Dobbiamo essere in due, due ostetriche, perché nell'emergenza è bene che si sia in due. Dobbiamo conoscere la donna per tempo, quindi c'è una sorta di continuità dell'assistenza, così si chiama. È difficile accettare, anche se per esempio nel tempo di Covid, purtroppo l'abbiamo fatto, anche se abbiamo fatto una valutazione sommaria, però l'ideale sarebbe che noi conoscessimo bene la donna finché noi ostetriche riusciamo a capire quali sono i bisogni della donna e come assisterla al meglio. E la donna entra in confidenza con noi, per cui si fida, perché il parto in casa è soprattutto una relazione di fiducia. Fiducia in chi assiste verso chi l'assiste e chi l'assiste verso chi deve partorire. E che il parto in casa è sicuro come quello che avviene in ospedale e anzi migliore in termini di outcome. Lo dice anche il NICE, che è un organismo di ricerca internazionale a cui si fa riferimento anche noi in Italia. E quindi non esiste che il parto in casa è pericoloso, può essere pericoloso se non ci sono le condizioni giuste. E siamo in due, come dicevo, la formazione, l'aggiornamento continuo e soprattutto la relazione. E la parto in casa è quella, relazione di fiducia, di consapevolezza da parte della donna e operatori che conoscono i propri limiti e le proprie competenze. Diana, e chi sono le donne che scelgono il parto in casa? Le donne che scelgono il parto in casa sono per lo più donne molto consapevoli, molto informate, donne che studiano linee guida e raccomandazione e donne che decidono di investire proprio sulla loro salute e su quella dei loro figli. Vediamo molte donne che scelgono il parto in casa in una seconda gravidanza anche dopo aver fatto delle esperienze che percepiscono negative e che quindi cercano anche un modo per elaborare, per avere un parto come lo desiderano, essendo al centro, stando al centro. Rosaria, come dovrebbe essere l'assistenza ideale al parto? Consideriamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1985 ha emanato le cosiddette raccomandazioni sull'assistenza alla gravidanza e al parto e l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che gravidanza e parto non sono delle malattie, ma sono eventi naturali, per cui il 95-90% delle donne può partorire senza alcun intervento. Dunque, perché per esempio facciamo l'ipotesi della Puglia, sempre con queste statistiche che ormai sono ufficiali, perché abbiamo il 35-40% di tagli cesari quando si è risaputo che non si dovrebbe superare il 10-15% di tagli cesari. Perché? Perché spesso c'è un interventismo inopportuno, quello che noi non facciamo a casa. Noi a casa abbiamo tutto l'occorrente, come dicevo, sulle emergenze eventuali, come può essere la cosiddetta borsa ostetrica, nella quale è contenuto tutto quello che serve. Per esempio, per rianimare un neonato, se il neonato sta bene, non c'è bisogno di nulla, però possono anche esserci bambini che hanno bisogno di essere aiutati a fare il primo respiro e abbiamo il nostro AMBU con cui lo aiutiamo. Può essere che ci sia, per esempio, un'emorragia del parto, rarissima perché, ripeto, è molto più frequente laddove si interviene con un parto indotto, mentre noi a casa non facciamo farmaci. Per cui, eventualmente, quando si dovesse presentare un'emorragia del dopo parto, abbiamo con noi il cosiddetto sintocino, l'ossitocina, che stabilizziamo la donna e eventualmente, se tutto ritorna nella normalità, ok, altrimenti stabilizziamo la donna e la portiamo in ospedale. Però, in genere, non abbiamo mai fatto trasferimenti con una certa urgenza. Quindi, com'è l'assistenza ideale? Detto questo, che è fondamentale, perché immagino che possa essere importante per chi non si occupa di parto in casa e vive la cultura demonizzante del parto in casa. In realtà, com'è il parto in casa? Il rapporto uno a uno, per esempio, no? A casa abbiamo, che è una donna, ha un'ostetrica addirittura due o anche tre talvolta, perché abbiamo delle giovani colleghe che, appassionate del parto in casa, ci affiancano. Quindi, se la donna è d'accordo, siamo anche in tre talvolta. Non interventi. Noi non facciamo l'episiotomia, come dicevo, il taglio che si fa in ospedale per accelerare. Non somministriamo ossidocina. Non acceleriamo, soprattutto non acceleriamo il parto. Perché, per esempio, durante un travaglio la donna potrebbe avere il cosiddetto momento di transizione, viene chiamato proprio fase di transizione, durante il quale la donna può avere bisogno di riposare. e noi non facciamo altro che farla riposare. Lei è il bambino, ha bisogno di tempo, quindi aspettiamo. Generalmente, invece, viene sollecitata l'accelerazione. Non si fa l'epidurale, non facciamo l'epidurale. Non facciamo farmaci di nessun tipo. Soprattutto la privacy. C'è il privacy. Non c'è gente che ruota intorno. C'è intimità, c'è silenzio. E noi, soprattutto, utilizziamo degli strumenti naturali per contenere il dolore, che noi impropriamente chiamiamo dolore. Ecco, la cosiddetta dolvia, la cosiddetta contrazione, che però la stanchezza può anche far avvertire come un dolore. E noi ricorriamo a questi strumenti, che possono essere, per esempio, il massaggio, l'acqua, il canto, le candele aromatiche, le tisane, e farla mangiare, farla bere. Una donna in travaglio deve poter mangiare, bere, si deve poter muovere liberamente. È lei che sceglie dove travagliare e come partorire. Pensi che noi in casa, io direi che nel 50% dei parti li assistiamo sul water, per dire com'è la posizione ideale. Perché il parto è così un evento naturale, che effettivamente se la donna la si lascia nelle condizioni migliori, le complicazioni non ci sono e tutto finalisce. Noi nel 90% dei casi abbiamo pochissimi trasferimenti, che però non mancano, per carità, ma non abbiamo mai avuto eventi, come dire, avversi. Questo per quanto riguarda il travaglio, come abbiamo detto. Poi un'altra storia è quando nasce il bambino. Nasce il bambino e non lo allontaniamo dalla mamma, lo poggiamo sulla pancia della mamma. Anche laddove ci dovesse essere bisogno, qualche volta è stato necessario aiutare a respirare, come dicevo, il bambino, l'abbiamo fatto poggiato sulla pancia della mamma, in modo che il contatto e il cordone non reciso, perché comunque lui continua ad avere il suo nutrimento. E per cui è questo, non allontanarlo, assolutamente, e perché così abbiamo, riusciamo a fare in modo che il bambino si attacchi al seno precocemente. Perché un'altra cosa che possiamo vedere sui dati del dottor Grandolfo è proprio questo, l'insuccesso dell'allattamento, la percentuale di insuccesso di allattamento dipende anche e soprattutto da quanto precocemente il bambino si è attaccato al seno. Quindi le prime due ore sono sacre. In quelle due ore ci sono degli ormoni, un cocktail di ormoni, si dice, che non si ripetono mai più nella vita, né del bambino né della mamma. E in quel momento si avviene il cosiddetto innamoramento, madre e figlio. Se vediamo qualche video di un bambino nato così che si avvicina, che si lascia sulla pancia della mamma, a un certo punto, sentendo la voce della madre, vediamo che alza gli occhi perché riconosce la voce della madre e quindi a quella voce collega il viso che è quello della mamma. Diana, quali sono i vantaggi di una nascita rispettata? Come diceva poco fa Rosaria. Sì, ci sono numerosi vantaggi di un parto rispettato. Soprattutto possiamo dire che una donna che si sente competente e capace di partorire con le sue forze e al centro dell'evento ha un'altra capacità proprio di accudire suo figlio, oltre al fatto che anche il secondamento avviene più facilmente, più velocemente se il bambino resta a contatto con la madre proprio per il discorso ormonale che accennava Rosaria prima. E si hanno, vediamo, anche meno perdite di sangue, perdite ematiche del dopo parto diminuite. Per il bambino invece questo restare a contatto pelle pelle con la madre nelle prime ore dopo il parto senza che sia separato, senza interruzioni per i soliti controlli di routine che vengono fatti che possono benissimo essere rimandati al dopo è essenziale sia per un adattamento termoregolatorio, metabolico, cardiocircolatorio e anche da un punto di vista batteriologico. Il bambino viene a contatto subito con il microbioma della madre e non viene a contatto con batteri sconosciuti e non loro. A parte questo sappiamo che come diceva Rosaria se il bambino sta a contatto subito con la madre vediamo un avvio dell'allattamento praticamente subito e un successo dell'allattamento mantenimento dell'allattamento anche a lungo andare. sappiamo che le donne che allattano fino ai sei mesi come suggerito da tutte le linee guida sono più quelle che avevano il bambino con sé nelle prime ore. Sappiamo oggi anche che un bambino al quale non viene reciso il cordone subito dopo il parto ma che resta attaccato alla placenta almeno finché smette di pulsare il cordone ha una quantità molto maggiore di sangue addirittura un terzo di sangue in più e quindi si previene anche l'anemia nei primi mesi di vita di questo bambino. Inoltre sappiamo che questo bonding come si chiama questo contatto precoce prolungato fa sì che si instaura una sicurezza di base una capacità di sviluppare il legame primario con la madre ma anche i legami sicuri nel futuro. Questo ci dimostrano tutta una serie di studi che sono stati fatti negli ultimi anni a livello neurologico dei bambini proprio. Invece dal punto di vista burocratico Rosaria come funziona? La donna dopo aver partorito deve comunque andare all'ospedale? No la donna non deve andare in ospedale noi per esempio rilasciamo il certificato di nascita col quale la coppia o il papà se sono sposati si recano in comune e fanno la dichiarazione di nascita. Un'altra cosa un obiettivo raggiunto dopo tanti sacrifici ultimamente grazie all'interessamento del direttore generale dell'Ares del centro metabolico di Taranto delle malattie metaboliche di Bari eccetera abbiamo ottenuto che in terza giornata il bambino e la donna non debbano uscire di casa per fare il cosiddetto prelievo per lo screening metabolico abbiamo ottenuto che lo si possa fare a casa e quindi anche un altro come dire un altro successo che abbiamo ottenuto in questi ultimi anni dunque la donna e il bambino non devono uscire di casa se tutto va bene e che non c'è bisogno di niente chiamerà il pediatra a casa perché noi per esempio nelle 24-48 ore il bambino comunque a casa deve essere visitato dal pediatra solitamente la donna ha il suo pediatra di fiducia altrimenti abbiamo noi dei pediatri di riferimento che consigliamo alla donna per cui non deve fare nulla oltre a questo grande traguardo raggiunto quali altri obiettivi avete? beh come prima cosa noi lo diciamo sempre alle donne se si vuole diventare protagonista del proprio parto il primo errore da evitare è quello di rivolgersi al ginecologo perché come ripeto come ho detto l'OMS dal 1985 ha ritenuto ha dichiarato che gravidanza e parto non sono delle malattie la figura competente è l'ostetrica questo dato per esempio noi lo ritroviamo nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità sulla gravidanza fisiologica e sulle linee di indirizzo per la gravidanza a basso rischio ostetrico così si chiama dove sono indicate le figure competenti per accompagnare la donna come prima figura competente c'è l'ostetrica anche perché questo è derivato soprattutto dai risultati che ci sono stati positivi per le donne seguite dall'ostetrica quindi come prima figura antepone l'ostetrica poi il medico curante e poi lo specialista poi se ci sono delle patologie l'ostetrica si affianca allo specialista opportuno quindi quello di promuovere l'autonomia dell'ostetrica noi speriamo che per esempio si attivino nei consultori la possibilità si attivi nei consultori la possibilità che l'ostetrica consultoriale possa seguire la gravidanza così come prevede per esempio l'agenda regionale ultima che è stata adottata dalla regione Puglia e che speriamo si implementi dal punto di vista dei servizi come quello il consultorio e dal punto di vista dei professionisti l'agenda della gravidanza è una sorta di di vademecum per la donna dove è descritto per esempio gli esami che deve fare nel periodo in cui deve fare quante ecografie sono necessarie dove deve andare è un accompagnamento cartaceo che può aiutare la donna a non perdersi e che però da oltre un anno che è stata adottata ancora non la vediamo quindi questo è il nostro obiettivo quella di favorire la divulgazione dell'agenda di gravidanza perché possa appunto far maturare la donna la capacità di gestire se stessa un'altra cosa che noi speriamo di fare è promuovere in Puglia almeno un ospedale amico dei bambini cioè l'ospedale amico dei bambini Baby Friendly Hospital è quell'ospedale dove viene promosso l'allattamento al seno e l'UNICEF ha come dire ha individuato dieci punti l'ospedale che rispetta questi dieci punti può essere dichiarato Baby Friendly ma invece vediamo che se vediamo la mappa di cui vedremo poi la fotografia vediamo che questa mappa si ferma al centro Italia giù in meridione non ce n'è neanche uno l'altra cosa che di cui ci stiamo occupando da diversi anni ma che i politici non ascoltano perché come dicevamo prima c'è la paura del parto in casa perché si pensa che sia pericoloso è una legge regionale sul rimborso abbiamo presentato già per due legislature una proposta di legge ma ora purtroppo lo dovremo ripresentare con la prossima legislatura e speriamo che qualcuno ci ascolti e questo è quello che è sono obiettivi grandi non sappiamo quando e se li raggiungeremo però noi ci proviamo ringrazio tantissimo Diana Foppa e Rosaria Santoro per la loro disponibilità e professionalità per maggiore informazione e ogni approfondimento nella descrizione del video abbiamo messo a vostra disposizione i link utili sai che può interessare o coinvolgere anche te a vostra disposizione a vostra disposizione